Ciao, sono Jacopo e questa è la nostra storia. I biscotti dell'allegria viaggiano sul Frolla Bus. I ragazzi del progetto Frolla sono un uragano di energia e se i clienti non possono andare da loro, sono loro a raggiungerli. Con il Frolla Bus hanno fatto tappa al mercato di Campagna Amica di Ancona e da qui sono nate nuove relazioni e progetti. Frolla è un laboratorio, ma anche un diverso bar, molto frequentato proprio per il servizio di qualità e il valore dell'accoglienza che questi ragazzi sono in grado di garantire. La qualità dei prodotti è garantita grazie alla collaborazione con gli agricoltori locali. All'entusiasmo ci pensano i ragazzi. Così al mercato si sono piazzati fuori, a distribuire i loro biscotti ai clienti, ma anche dentro, per realizzare in collaborazione con ognuno degli agricoltori presenti, un nuovo prodotto, partendo dalla materia prima sul banco, dal dolce al salato e fino ai formaggi e all'olio d'oliva. Ne sono nati prodotti da forno e meravigliose relazioni. Sulle quattro ruote Frolla non trasporta soltanto prodotti dell'eccellenza agricola e artigianale locale, ma porta a un modo vivace e appassionato di concepire le relazioni, il lavoro, la vita. Noi facciamo un sabato al mese, è diventato quasi un evento, quindi la gente ci scrive anche attraverso i social quando venite, quando ci siete. Quindi abbiamo creato in questi mesi anche i nostri clienti abituali che ci aspettano come evento di punta su Ancona. Il Frolla Bus ha aiutato a spostare di qualche metro in avanti gli orizzonti delle opportunità per questi ragazzi. Frolla è nato grazie a un crowdfunding, quindi in rete, prima ancora che nella realtà. Così è nato il laboratorio e alla stessa maniera il Frolla Bus. Ora è il momento della cioccolateria, perché Frolla non conosce limiti.